Se siamo aperti tutti i giorni fino alle 7 di sera e il sabato mattina, se abbiamo un'area dedicata ai bambini e ti accogliamo con un caffè, se puoi prelevare gratis ovunque e ogni filiale è la tua filiale, se ti diamo il 4% di interesse in anticipo sul conto deposito, è perché sappiamo che quelli che porti da noi non sono solo i tuoi risparmi. Sono le 160 ore al mese che hai lavorato straordinari esclusi, comprese le limioni, le trasferte e le notti passate sveglio. Sono la casa col giardino che sogni di comprare per riempirla di fiori e di amici per tutta l'estate. Ho l'università dei ragazzi, perché per tutte le volte che tu ci farai dire che vita, noi ti faremo dire che banca, la banca da oggi in poi.